Mi sei mai chiesto perché Rio Mare è il tonno più venduto? Il tonno preferito, quello che piace di più, è il tonno tenero. E tonno Rio Mare è così tenero che si taglia con un grissino, così. Rio Mare è tonno di prima scelta, rosa, gustoso, in olio d'oliva, in così tenero Rio Mare. Rio Mare, oggi anche in confezione risparmio.